Il maresciallo di Carabinieri gli arriva l'incarico di fare un pedinamento dentro il casino Chiamalo appuntato e gli fa appuntato Guarda stasera domandano a fare un pedinamento, stiamo dentro il casino Non è che là dentro mi chiami il maresciallo Perché dopo ci sghamano subito, stiamo un borghese No, no, non si preoccupi il maresciallo Eh no, non mi devi chiamare il maresciallo Dici vabbè ma che c'entra, adesso stiamo qua dentro Stasera non mi chiamo il maresciallo, non si preoccupi Insomma questi a sera tutti vestiti acchittati, giacca e cravatta Entrano dentro il casino, prendono un po' di fisce e si dividono Ora il maresciallo si avvicina al tavolo della roulette C'era il croupier che aveva lanciato la pallina Avanti fate il vostro gioco Questo stava con queste fisce e sapeva dove metterle E il croupier su guarda e gli fa Ma lei è appuntato? No, no, io sono il maresciallo Come siamo?